Oggi abbiamo vinto contro una grande squadra, veramente questa vittoria è importantissima per noi e siamo molto contenti. Era una partita non semplice sulla carta, però avete avuto quella grinta, quella voglia di battagliare, come diceva il mister, c'è stata finalmente. Sì, certo, siamo dove siamo, dobbiamo vincere, dobbiamo fare punti per fare salvenza. Oggi abbiamo vinto, abbiamo fatto tre gol, è una grande apprezzazione. Anche perché con un Rodin così non si può non salvarsi? No, vedremo, ma secondo me sono in forma. Ho fatto 2019 e secondo me ho fatto 5 o 6 buone partite. Devi continuare così. Sì, certo. Grazie. Grazie. Grazie.